I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno hanno eseguito quattro denunce del sequestro di un fondo. A Domignano hanno riscontrato uno sversamento illecito di rifiuti speciali all'interno di un appezzamento di terreno. È stato deferito in stato di libertà illegale rappresentante di una locale impresa operante nel settore edilizio, che dovrà rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. È stato sottoposto al sequestro l'appezzamento esteso su 13.000 m2, su cui erano stoccati rifiuti speciali costituiti da rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione. A Castellabate, invece, sono stati ispezionati tre impianti operanti nel settore della cantieristica navale ed è scaturita la denuncia in stato di libertà dei rispettivi legali rappresentanti. Sono state riscontrate in osservanza i limiti massimi di stoccaggio di rifiuti di lavorazione, assenza di autorizzazione delle emissioni in atmosfera e scarico di acqua e refi industriali in assenza di autorizzazione.